ben trovati ragazzi vi ringrazio per la conversazione che abbiamo avuto ieri sempre molto ricca di stimoli e spunti e adesso dobbiamo un attimino recuperare quello che avrei voluto fare in classe e lo vediamo in un breve filmato non posso dilungarmi perché so bene che osservare un filmato troppo a lungo diventa stancante e fondamentalmente anche improbabile avere un'attenzione che sopra i 10 minuti torniamo agli argomenti che avevamo già inaugurato dall'inizio dell'anno e quindi il 600 e il barocco nello specifico ci occuperemo in questo breve contributo della lirica barocca in italia noi abbiamo già visto il barocco l'abbiamo visto in pittura come in questo caso con la ricerca di nuove immagini di immagini che suscitano un'immediata reazione estetica guardate qui come non si può rimanere stupiti dai colori e dalle forme abbiamo visto il barocco in architettura con la ricerca di questa linea curva di queste simmetrie che tradiscono però dei giochi di ombre di volumi abbiamo visto la ricerca di sfarzo di bellezza fino all'est fino all'eccesso quasi guardate questo interno abbiamo parlato anche del barocco nella scultura santa teresa abbiamo già vista questo gioco con il lenzuolo lì per terra è marmo di fatto sembrerebbe di fatto un lenzuolo ma in marmo anche la statua è realizzata in marmo e vedete le curve le spire che disegnano questo tessuto a restituire un senso di movimento quasi dell'immagine poi la sensualità nella mano sul seno e nel volto della santa quindi anche questa attenzione a questi aspetti facilmente piacevoli all'occhio no in questo caso la sensualità e vedete in quest'altra immagine il gioco la torsione della statua i muscoli la muscolatura la leggerezza che questa immagine dà si tratta di una statua di marmo e tonnellate di pietra e finemente cesellata e guardate questa torsione del corpo come i muscoli sembrano lì restituiscono l'immagine della dello sforzo e del movimento guardate il corpo femminile tra le braccia il rifiuto che oppone e sembra quasi che stia per liberarsi da questo abbraccio visto questo e vista la ricerca negli ambiti delle scienze pittoriche architettoniche scultorie ci spostiamo adesso nell'ambito della letteratura non rimane strane a questo a questi fermenti nello specifico ci occuperemo di poesia lirica con giovane battista marino e gabriello chiabrera studiatevi poi tutto lo schema giovane battista marino gabriello chiabrera hanno due esperienze decisamente differenti giovane battista marino napoletano un vivere dovrà scappare da milano per una falsificazione di documenti girerà l'italia sarà arrestato e finirà poi a cercare fortuna in francia parigi dovrà avrà un riconoscimento avrà riconoscimento importante dall'altro lato abbiamo gabriello chiabrera questo gesuita quindi ecclesiastico monaco e ricorderete che l'ordine dei gesuiti costituito a metà del cinquecento proprio in risposta alla riforma protestante è un ordine che si dedica anche alla cultura allo studio due personaggi diversi che si cimentano entrambi nella poesia lirica aderendo ai fermenti barocchi e quindi giovane battista marino con la ricerca di nuove immagini di nuove figure da mettere nella poesia di nuovi concetti una visione diversa sulla realtà attenta anche agli aspetti più quotidiani l'utilizzo di metafore a volte anche ardite insolite e la ricerca di una musicalità del verso anche gabriello chiabrera più o meno si pone sulla stessa linea con maggiore attenzione però ai modelli greci classici latini alla poesia antica giocherà molto di più chiabrera sugli aspetti formali e quindi sugli aspetti metrici sulla struttura del verso si allontanerà dal sonetto scriverà ballate sperimenterà nuovi modi di scrivere e questo è importante malgrado a volte il barocco ha quasi un'idea di pacchiano di eccesso tuttavia non dobbiamo trascurare il fatto che in questo periodo entrano in ambito poetico perché di quello stiamo parlando nuovi argomenti nuove figure retoriche si svecchia un po va avanti si svecchia un po il patrimonio petrarchesco che pure continuerà in italia ad essere coltivato fino ai giorni nostri tuttavia nel barocco si aumentano le cose di cui si può parlare in poesia cambia anche il modo di vedere alla donna vediamo dal vostro libro alcuni aspetti lo faccio molto rapidamente perché poi avrete tutto il tempo di leggere per conto vostro queste pagine quindi la lirica in italia abbiamo già parlato di giovanni battista marino e della sua ricerca di un linguaggio metaforico ricco di concetti di immagini perboliche esagerate lo vedremo eccentriche giocherà molto sul sul suono delle parole cercando di di dare un senso di meraviglia a chi lega con concetti rari con il tentativo di staccarsi di allontanarsi dei modelli precedenti la figura femminile come anche gli aspetti della vita in realtà non solo la figura femminile viene indagata sotto diversi punti di vista quindi non più la laura di turno la bella donna che passa per strada o che segue la processione o che piange o che lì per morire insomma si allontana questa non del tutto però aggiunge a queste immagini altri altri aspetti della donna sicuramente come dice qui più ampia e più complessa anche dicevo l'ingresso degli aspetti più grotteschi della vita fino anche il brutto con queste donne non leggeremo queste poesie con queste donne brutte sdentate malate qui vediamo insomma che entrano nella poesia eventi quotidiani che erano ritenuti in poetici cioè c'erano dei canoni che i poeti rispettavano anche nel cinquecento c'era qualcosa che nel cinquecento non sarebbe mai stato accettato come poetabile cioè elemento di poesia che nel seicento entra nei libri di poesia e anche un certo successo soprattutto con il già citato giambattista marino e poi abbiamo questo gabriello chiabrera anche lui cerca la novità e lo fa dicevamo proprio sperimentando metri differenti nuovi modi di scrivere versi e la quantità di sillabe nel verso diverso è tommaso lampanella in questo caso passiamo avanti vi leggete anche la vita di giovan battista marino qualcosa l'abbiamo già vista le opere minori e passiamo direttamente alla poesia che volevo sottoporvi giovan battista marino donna che si pettina la raccolta da cui presa è la lira il metro è il classico sonetto quindi lo conosciamo già dal 1200 e ve la leggo poi la rivediamo cercate di fare attenzione al suono del verso quindi alla ricerca delle parole che compongono il verso per esituire una musicalità diffusa onde dorate e l'onde ran capelli navicella d'avorio un difendea una mano pur d'avorio la reggea per questi errori preziosi e quelli e mentre i flutti tremolanti e belli con drittissimo solco di videa l'orde le rotte di fila morcogliea per formare catene ai suoi ribelli per l'aureo mar che rincrespando apria il procelloso suo biondo tesoro agitato il mio cuore a morte gia ricco naufragio in cui sommerso io moro puoi calmen furne la tempesta mia di diamante lo scoglio e il golfo d'oro la rivediamo il suono l'avete sentito questo questa rima in ea ea e apria gia molto l'accostamento di due vocali da un suono molto prolungato molto musicale allora già dal titolo donna che si pettina ecco abbiamo un elemento insolito non più una donna di chissà impegnata in chissà quale nobile attività ma una donna che semplicemente davanti allo specchio si petti e infatti la poesia gira tutto su sull'immagine di questo pettine che attraversa i capelli biondi onde dorate e l'onda erano capelli le onde dorate ovviamente si fa riferimento a queste onde d'oro che erano i capelli di questa donna che un giorno la navicella d'avorio fendea cioè attraversava la navicella d'avorio e il pettine un pettine o d'avorio comunque di materiale prezioso quindi già la prima metafora la testa e i capelli di questa donna diventano vengono paragonati al mare quindi un paragone molto forzato la finitezza di una testa la vastità del mare e il pettine che si muove in questi capelli diventa una navicella una nave una mano pur d'avorio quindi una mano d'avorio bianca non d'avorio come sostanza ma riferita al colore una mano più bianca la reggea reggeva la navicella reggeva il pettine per questi errori preziosi e quelli la regge per questo errare e quell'errare prezioso nei capelli quindi il pettine si muove erra errante attraverso i capelli e mentre i frutti tremolanti e belli con drittissimo solco di videa quindi probabilmente fa la riga al centro fa delle righe sui capelli quindi fa dei disegni geometrici drittissimi dice celebra quest'azione consueta del pettinarsi l'or delle rotte fila morcoglia per formare catena i suoi ribelli amore l'amore che cosa fa interviene l'amore e cosa fa l'amore l'oro delle rotte fila coglia cioè raccoglieva i capelli che si spezzavano nell'atto del pettinare per fare cosa per fare ai a chi si ribella l'amore delle catene un'altra immagine particolare non verrebbe in mente primo acchito acchito l'oro l'amore raccoglie i capelli d'oro spezzati e ne fa catene ci rendiamo conto che siamo di fronte a qualcosa di molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati per laureo mar che rincrespando apria il procelloso suo biondo tesoro agitato il mio cuore a morte gia ed ecco in questo mare d'oro che crespo rincrespando apria il procelloso suo biondo tesoro cioè che veniva questo mare aperto quasi un'immagine biblica il mare che si divide fa riferimento alla riga al centro attraverso questo mare procelloso tempestoso questo biondo tesoro agitato il mio cuore a morte gia ed ecco l'amore l'amore del poeta si trasforma in sofferenza lo abbiamo già visto non c'è nulla di nuovo in questo l'amore si trasforma in sofferenza in dolore in morte per questa passione che agita il cuore del poeta quindi questo duplice viaggio della navicella nel mare del cuore che per l'auro mare va agitato guarda osserva quasi si avventura in questo mare ricco naufragio il naufragare in questo mare di capelli è un'esperienza preziosa ricca perché sono capelli d'oro in cui sommerso io muoro un'immagine più diretta muoio sommerso tra questi capelli d'oro poiché almeno questa cosa è preziosa poiché almeno nella tempesta mia furono di diamante lo scoglio e il golfo d'oro furono riparo in questa tempesta c'è una tempesta di capelli che viene domata dal pettine e una tempesta interiore del poeta questo agitato suo cuore in questa tempesta i capelli che sono mare diventano però scoglio e golfo diventano un riparo prezioso quindi vedete il ribaltamento quasi questa questi capelli che sono prima onde in cui si perde poi anche il paro golfo d'oro perché probabilmente fa riferimento a una nuca o alla forma ondulata dei capelli e questo diamante che diventa scoglio per a cui appigliarsi non so possiamo immaginare o gli orecchini o un frontino o non sappiamo cosa o potete immaginarvi voi qualcos'altro quindi ci rendiamo conto della novità di questa forma poetica ci spostiamo oltre naturalmente potete leggere le note sotto la poesia ci sono le note per vedere un componimento di gabriello chiabreira sto sfogliando il vostro libro perché cerco la poesia vi leggete un po la la vita di gabriello chiabreira quali sono le sue opere la sua ricerca noi ci occuperemo di questa poesia belle rose porporine vedremo cosa sono queste belle rose porporine il metro c'è la struttura metrica di questa poesia non è più il sonetto ma è una canzonetta composta sono sei versi quaternare e ottonare mescolati tra di loro con uno schema di rime particolare a a b c c b quindi quando dicevamo di è una una sperimentazione di chiabreira facciamo riferimento proprio a questo allo schema metrico e al all'alternarsi delle dei versi della quantità quindi di sillabe presente nel verso belle rose porporine la leggiamo e poi la commentiamo belle rose porporine che traspine sull'aurora non aprite ma ministere degli amori bei tesori di dei denti custodite dite rose preziose amorose dite ond'è che se io m'affiso nel bel guardo vivo ardente voi repente disciogliete un bel sorriso e ciò forse per aita di mia vita che non reggia le vostri re oppure perché voi siete tutte liete me mirando in sul morire belle rose o feritate o pietate del si far la cagion sia io vo dire in nuovi modi vostre lodi ma ridete tuttavia se bel rio se bella oretta tra l'erbetta sul mattin mormorando erra se di fiori un praticello si fa bello noi diciamo ride la terra quando avvien che un zefiretto per diletto bagni il pie nell'onde chiare sicché l'acqua in sull'arena scherzi appena noi diciamo che ride il mare se giammai tra fior vermigli se tra gigli veste l'alba un aureo velo e su ruote di zaffiro move in giro noi diciamo che ride il cielo bene ver quando è giocondo ride il mondo ride il ciel quando è gioioso bene ver ma non san poi come voi faremo viso si grazioso allora se avete fatto attenzione se avete ascoltato avete visto la musicalità di questi versi richiamo tra le rime molto ravvicinate perché si distendono poi si riavvicinano e dal punto di vista del contenuto avete capito che c'è un continuo rimando alla donna e alla natura ora la vediamo quindi belle rose porporine è l'argomento centrale belle rose porporine che tra spine sull'aurora non aprite sono belle rosa porporine rosse che non si aprono tra le spine sul far dell'aurora quindi non sono fiori non hanno spine non si aprono sbocciano all'arrivo del sole ma ministri degli amori ministri nel senso schiave serventi degli amori bei tesori di bei denti custodite qua si apre un po lo spiraglio sul senso di questa poesia queste belle rose porporine custodiscono i denti quindi è chiaro che se custodiscono i denti parliamo delle labbra dite rose preziose amorose dite ond'è che io ond'è che se io mi affiso nel bel guardo vivo ardente voi repente ti scegliete un bel sorriso dite rose parlatemi belle labbra preziose come mai se io mi fisso nel bello sguardo vivo ardente della donna evidentemente voi subito ti scegliete un bel sorriso cosa vi fa sorridere se io vi guardo se guardo le labbra se guardo gli occhi della donna che porta queste labbra si chiede e ciò forse per sostegno per aiuto alla mia vita che non regge alle vostri le cioè che non sopporta non riesce a reggere la vostra ira la vostra rabbia oppure è perché voi siete liete guardandomi morire di nuovo torna quella cosa che abbiamo già visto del dell'amore dolore nel guardare nel desiderare nel non poter avere o non immediatamente o nella speranza di poter avere oppure ridete perché mi vedete sul morire morire di desiderio morire dei sospetti delle ire di tutto ciò che in qualche modo fa temere il poeta poi continua belle rose o feritate o pietate del si far la cagion sia chi vuol dire in modi nuovi vostre lodi ma ridete tuttavia cioè belle rose labbra no o che sia desiderio di ferire o che sia pietà la ragione di questo sorriso io voglio dire voglio tessere le vostre lodi in modi nuovi ma ridete tuttavia il sorriso continua però lui prova nella sua ricerca nuovi modi quello che dicevamo la ricerca della novità poi continua con i paragoni naturali se un bel fiume se bel rio se una bella oretta l'arese il vento tra l'erbetta sul mattino mormorando erra se un fiume un uscello o del vento fa frusciare l'erba sul mattino oppure se di fiori un praticello si fa bello se sbocciano i fiori in un prato noi diciamo ride la terra la terra ride felice quando avviene anche un zeffiretto per diletto bagni il piede nell'onde chiare quando accade che un soffio di vento primaverile per diletto per divertimento scorre sull'acqua bagni il piede nell'onde chiare sicché l'acqua in sull'arena scherzi appena sicché il flutto d'acqua l'onda sull'arena si vede diventa bianca scherza appena quindi si infrange noi diciamo che ride il mare vedete la musicalità la raffinatezza di questi versi se giammai tra fiori vermigli se tra gigli veste l'alba un aureo velo se tra i fiori rossi se tra gigli fiori bianchi l'alba veste un velo d'oro il giorno al suo sorgere mette quasi un velo d'oro sui fiori e su ruote di zaffiro muove in giro lo zaffiro è una pietra preziosa di colore azzurro e quindi dal bianco all'azzurro il cielo cambia colore lo restituisce questo cambiamento del colore dell'indice cromatico del cielo su ruote di zaffiro come se ci fossero delle ruote azzurre che muovono il cielo noi diciamo che ride il cielo è vero quando è giocondo ride il mondo ride il cielo quando è gioioso è tutto vero ma non sanno poi come voi fare un viso così grazioso così bello la natura non riesce ad imitare o a fare un viso così bello un po si capovolge il rapporto non più un'umanità un'umanità che non riesce a reggere il confronto con la perfezione della natura ma è una natura che essa stessa viene messa a confronto con la bellezza della donna e in questo caso la grazia è più femminile che non della natura vi potete leggere anche l'analisi del testo piuttosto breve spiega le cose che vi ho detto quindi per ricapitolare la prossima volta partiamo di qua do per scontato che avete ascoltato tutto ascoltato visto tutto questo video perché questo sarà il punto di partenza di qua partiremo con alcune domande fatte naturalmente a voi per poi andare avanti bene ci vediamo a presto buon lavoro